E' questa. Ma lei prende tutta questa roba qua. E non era meglio l'eroina? Perché ce l'avete? Andiamo ragazzi, l'incendio è domato. Ma minchia. E adesso dove andrai? Mi vado a suicidare. Vengo anch'io. Adesso devo pensare solo a mia figlia. Questo? Massaggio plantare. E il bite. La notte di grigno. Sei tu Corrado? Mi hai riconosciuto dal profilo di CarTogether? No, no, dalla macchina di merda. Sono affetto da sindrome d'asperto. Da me tutti mi chiamano il genio. Il genio? Il genio? Non sai come mi chiamavano. Falsuona porta aeree giù un bocgetto. Eh, ho capito che non sta bene, però... E che per via della sindrome dice sempre la verità. Quindi? Io sempre sono come uno cogliono di merda. Ma chi cazzo ne ha imparate queste parole? Ma porca troia. Non ne deve rimanere uno vivo. Non è che c'è il ciclo. Perché per voi uomini se una donna si incazza c'è il ciclo? No, mi vedrai con il ciclo. Ti dico solo questo. Documento. Si tolga gli occhiali. È un tic nervoso. Peccato. Sai che sembri un bronzo di riace? Ti riferisci al fisico? No. Alla ruggine. Guarda che tu mi vedi così, ma dentro di me si nasconde l'essere più fine, sensibile e aggraziato che esista al mondo. Minchia come si nasconde bene. Alla ruggine. Alla frog把 Alla ruggine. Grazie.